Da dove vieni? Sono in Russia. Sono russa, solo vivo in Moldaglia. Mi è piaciuto? Sì, moltissimo. Mi piace, soprattutto gli italiani online. Mi è piaciuto molto. Comodo, è molto emozionante. Lezioni non noiosi. Consigli il corso di italiano a qualcuno? Sì, sì. Consiglierò subito perché mi molto piace. Giulia, per te da Mosca che dici? Per me penso che questa è una grandissima possibilità perché quando io sono stata a Roma potevo prendere solo due settimane. Adesso posso prendere molte settimane e imparare la lingua. È buona possibilità per me. Sono trista perché queste lezioni per me sono finiti. Grazie a tutti.